Erano nuovamente attesi per questa mattina in tribunale ad Arezzo per l'incidente probatorio, ma sono ancora irreperibili e quindi non si sono presentati. È infatti un mistero che fine abbiano fatto i due fidanzati nigeriani che nella notte tra il 6 e il 7 ottobre scorsi erano rimasti per una notte in balia di otto connazionali sequestrati in un appartamento delle ville di Monterchi, provincia di Arezzo. Lei, 23enne, residente a Ferrari, aveva raccontato di essere stata stuprata sotto minaccia di un coltello di fronte al fidanzato. Lui invece, un 27enne, residente all'Aquila, aveva dichiarato di essere stato picchiato e poi sottoposto al rituale dello scalpo. Solamente il mattino successivo i due erano riusciti a liberarsi. Una volta tornate da Arezzo avevano presentato denuncia in questura, in seguito alla quale la squadra mobile aveva identificato 4 degli 8 appartenenti al branco. I due questa mattina erano attesi di fronte al GIPA Giampiero Borraccia per riferire quanto accaduto in quella terribile notte, ma di loro non c'è più traccia. Secondo gli inquirenti potrebbero avere paura di ulteriori conseguenze, forse addirittura peggiori. Non essendo pervenuti nemmeno questa mattina, è ovvio che questa reperibilità, secondo me, porterà al pubblico ministero, poi successivamente richiedere anche un'archiviazione, visto che non ci sono elementi di prova idonea, secondo questa difesa, a sostenere l'accusa in giudizio. Sono in tutto 4 gli indagati per quella notte degli orrori, 3 per sequestro di persone e lesioni ed uno per violenza sessuale. Tutti respingono ogni tipo di accusa. Procederemo anche eventualmente un domani, eventualmente a un'eventuale denuncia, quella era per calugna, nei confronti appunto dei miei assistiti, qualora vi fossero degli elementi che ci portassero a avere questa considerazione.